A pochi giorni di distanza dal rinvenimento da parte dell'Università del Salento delle tre teste di età romana, tra cui il volto di Giulio Cesare, nel sito archeologico di Aquinum cresce la voglia di valorizzare ancora di più la zona, puntando alla scoperta di altre rovine come il teatro ed il Tempio di Diana. Gli scavi finora sono stati condotti dal comune di Castrocelo e diretti dal professor Giuseppe Ceraudo, del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento, su concessione della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti. Dall'anno prossimo si continuerà a scavare, ma il comune non può più continuare il percorso alla scoperta delle meraviglie sotterranee da solo. Ha bisogno di aiuto. Il sindaco, Filippo Materiale, ha fatto appello allo Stato e all'Unione Europea. La grandezza delle scoperte è tale che l'ente da solo non è in grado di proteggerle, propagandarle, restaurarle e metterle in sicurezza. Ci ha bisogno dell'assistenza dello Stato e dell'Europa. L'intenzione resta quella di continuare a scavare, ma è necessario un intervento di messa in sicurezza immediata che permetta di andare avanti a scoprire altre meraviglie storiche che si celano sotto le macerie, oltre alla testa marmorea del conquistatore della Gallia Giulio Cesare.